Ripartire dal nostro progetto politico, così lo sconfitto del centro-sinistra Giovanni Legnini. Abbiamo conseguito un risultato elettorale, ha commentato che pur non definitivo ci colloca tra il 31 e il 32%, superiore di più di 12 punti rispetto a quella delle elezioni politiche di meno di un anno fa. Vince nettamente il centro-destra, afferma Legnini, trenato dal grande risultato della Lega, mentre crolla il Movimento 5 Stelle che quasi dimezza i voti dello scorso anno. Questa è l'analisi politica di Giovanni Legnini. Ho chiamato il nuovo presidente della regione, Marco Marsilio, ha detto, per formulargli gli auguri di buon lavoro. E poi un ringraziamento. Voglio ringraziare di cuore tutte le candidate, i candidati, i volontari, tutti coloro che hanno contribuito a conseguire questo importante risultato. Tutti ci siamo battuti con molta determinazione e generosità e di ciò potete essere fieri, dice al suo elettorato. Ripartiamo da qui, aggiunge, con rinnovato impegno e con la responsabilità che ci proviene da rappresentare quasi un terzo degli elettori abruzzesi. Esprimo la convinzione e conclude che il progetto politico che abbiamo promosso fosse l'unico possibile e che gli obiettivi che abbiamo indicato sono quelli di cui la nostra regione ha bisogno. Il risultato abruzzese indica una via utile, quella di un'ampia coalizione tra progressisti liberali e civismo da percorrere fino in fondo per suscitare una nuova speranza per il centro-sinistra italiano.